tifose e tifosi bentornati per questa seconda puntata di ti confesso che saluto anzitutto il pubblico presente che come al solito è attivissimo e carichissimo con un applauso grazie a tutti e ringraziamo anche tutti per lo share della settimana scorsa che è stato oltre ogni aspettativa e ci auguriamo che sia altrettanto in queste settimane dove gli ospiti incalzano e dove dopo la prima puntata c'è un diffondersi di voci di persone che vogliono venire all'interno dello spogliatoio si sgomita per essere presenti ma noi facciamo un'attenta selezione e andiamo a presentare adesso facciamo un po' di identichitti il personaggio di oggi il personaggio di oggi lo conoscete tutti una persona che in campo si dà un grande affare corre come si dia da fare poi questo è tutto da dimostrare ma ce lo dimostrerà al campo ce lo dirà anche lui se però poi lo vedete in giro con i suoi occhialetti con la sua riga nei capelli sembra veramente uno scolaretto quindi ho chiamato lo scolaretto che corre abbiamo quest'oggi in trasmissione con noi a ti confesso che andrea corvari l'applauso della piazza grazie ciao a tutti grazie per l'invito benvenuto andrea benvenuto sei preoccupato sei tranquillo ma sta molto preoccupato mi fa piacere benissimo allora andrea andiamo a bomba cominciamo a parlare della cosa per cui tutti a chiavari ti apprezzano per cui chiavari ti ha imparato a conoscere ti ama ma anche le piazze dove sei stata prima tutti ti conoscono e ti rispettano per questo parliamo di andrea corvari cuoco insieme ti aspettavi che io ti parlassi di andrea corvari calciatore assolutamente no ero preparato a questo mi fa piacere andrea allora tu e poi parleremo anche del cuoco ci arriveremo non ti preoccupare che non dimentichiamo nulla di quello che diciamo in questa sede sei contento nell'inizio di questa stagione assolutamente sì ci aspettavamo l'inizio del genere perché dall'inizio il ritiro che lavoriamo duro e quindi ecco eravamo consapevoli della nostra forza l'abbiamo scoperta partita in partita anche e comunque tutta una conseguenza del lavoro fatto il ritiro a tavarone e dal mese su aleivi e tutto eravamo siamo contenti e consapevoli di quello che abbiamo fatto contenti e consapevoli due parole molto importanti tutte quelle che i nostri calciatori dicono in queste settimane mettetele da parte perché servono per la vita la gioia e la consapevolezza prime parole importanti del nostro andrea corbari andrea corbari ha iniziato nel palla vicino giusto esatto guarda come sono preparato poi è nato a fiorenzuola poi a piacenza poi a ventella esatto però se uno va a vedere il tuo percorso calcistico vede che il percorso calcistico inizia relativamente tardi esatto nei professionisti ci vuoi raccontare di questa cosa che è una cosa particolare che magari non tutti sanno il perché non lo so neanche io non saprei dirti una motivazione non ho mai fatto settore giovanile in una squadra professionistica quindi anche quello magari può aver rallentato il mio arrivo e ho iniziato a giocare a 17 anni in eccellenza al pallavicino che è una squadra in provincia di fidenza in provincia di parma e da lì dopo sette otto anni tra eccellenza e promozione mi ha notato il fiorenzuola in serie di col direttore simone di battista che era conosciuto nella categoria per cercare diverse scommesse ecco e quindi mi ha dato questa possibilità in serie di a fiorenzuola e dopo due anni fatti bene diciamo mi sono fatto conoscere mi sono fatto apprezzare anche da lui come direttore sportivo il quale ha avuto un'opportunità a piacenza in serie c dopo il il covid quindi era l'anno 2020 giugno 2020 mi ha dato la possibilità di mettermi alla prova in serie c nei professionisti e quindi l'ho presa il balzo subito e quindi mi sono ritrovato a piacenza ho fatto bene un anno e mezzo perché dopo mi sono fatto male e poi dopo sono arrivato qua da infortunato però ecco ho cercato di farmi conoscere anche qua però la cosa un po caratteristica che ti tra virgolette che ti insegue da quando hai iniziato è avere persone che hanno scommesso un po su di te quindi anche anche matteo superbi che salutiamo che ci segue tra i primi che ci segue anche lui quando tu ti sei infortunato ti ha preso non come una scommessa ma comunque come uno che doveva recuperare no assolutamente sì 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 già l'anno prima mi voleva il direttore dopo per vari motivi le cose non sono andate in porto però nonostante fosse infortunato l'estate successiva e comunque l'infortunio pesante perché comunque il crociato è uno degli infortuni un po più pesanti nel nostro settore ha comunque avuto la fiducia di scommettere lo stesso su di me quindi ecco sono molto contento di questo lo ringrazio ringrazio la società perché comunque lavoro non solo del direttore ma di tutta la società e quindi mi ha fatto molto piacere penso che sia importante per tutti no che all'interno del mondo del calcio ci siano persone disposte un po a giocare qualcosa su di te cioè darti fiducia ecco penso che anche per i nostri giovani che sono qui a volte che si affacciano con tanto ottimismo a volte anche con qualche idea un po più sopravvalutata rispetto al normale avere delle persone che scommettono su di te vuol dire che ti danno fiducia mettono in gioco le cose belle che tu hai ma anche con un po di realismo perché poi la vita non è detto che tutti possano arrivare a fare il calciatore l'importante che siano realizzati nella vita assolutamente si condivido se lo sei il bello dell'essere calciatore qual è se tu ti senti un calciatore tu ti senti un calciatore perché mi fa piacere già questo è buono ecco perché è il mio status di lavoratore bravo 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 cordoni bravo dopo da qui a dire sei un calciatore ne passano ne passa di acqua sotto i ponti vedremo il lato positivo è che fai quello che hai sempre sognato di fare che da piccolino entri in un campo da calcio e sogni di giocare la finale champions league dopo i palcoscenici non sono quelli però comunque la realizzazione personale di poter andare ogni giorno al campo allenarti fare quello che non ti pesa fare penso sia una bella soddisfazione personale ecco nel brutto dell'essere calciatore il brutto dell'essere calciatore che c'è sempre questa questa diciamo idea generale delle persone in cui tu sei il calciatore sei un po quello che se la tira sei un po quello che che fa il fenomeno tra virgolette hai un po un'immagine del calciatore medio di alto livello che ti comunque ti se ce l'ha alle spalle ecco ti insegue diciamo ok visto che corbari ha appena ammesso che fa un po il fenomeno come un calciatore allora io leggo una sua intervista è stata una partita che ricorderò per sempre difficile che mi possa ricapitare in futuro aveva fatto tripletta me la godo tutta anche se comunque la sbornia del momento è già passata mi sono portato a casa il pallonautografato da tutti me lo tengo stretto parliamo un po di questa sbornia ti capita spesso no no era una sbornia figurata o era una sbornia delle proprie no era una sbornia figurata poi era durante la infrasettina era una partita infrasettimanale quindi c'era poco da festeggiare va bene però vedi ha fatto tripletta il pallone ce l'hai ancora o la sbornia l'hai perso per strada no 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 è a casa a casa benissimo benissimo allora parliamo un po della tua famiglia vabbè tu sei di cremona bellissima città che tutti conosciamo salutiamo papà e mamma corbari che ci stanno seguendo sicuramente tua sorella più grande giusto più grande sì più grande esatto e poi parliamo di lei di chi è di francesca tutta moglie francesca sono stati marito e moglie da molto poco e raccontaci di francesca cosa fa nella vita se ci sta seguendo francesca sicuramente ci starà seguendo ciao franci sarà lì sul divano pronto a guardare tutto esatto e a farti le punte su qualcosa sicuramente sicuramente per capire ok sulla parlata su come mi metto davanti le telecamere quello sicuramente ho capito lei è anche un taglio importante oggi anche una riga importante per occasioni importanti esatto quindi ho dovuto prepararmi no francesca è un insegnante d'inglese qui a chiavari è una persona che mi ha dato tanto nel senso mi ha aiutato a maturare nel senso lei per la sua età ha due anni più piccola di me una 96 quando l'ho conosciuta nel lontano 2017 era una persona già matura per l'età che avesse e mi ha aiutato a maturare anche a me a crescere infatti sarà un caso sarà quello che è però da quando ho conosciuto lei io sono partito dall'eccellenza e sono arrivato fino alla serie c lavorativamente parlando e quindi è stato un bel percorso che abbiamo affrontato insieme e quindi sono molto contento del nostro rapporto della nostra complicità del nostro mondo ha scovato in te un talento quindi ha scovato o io e lei perché lei mi porta fortuna certo e vedi quindi questo è un aspetto che non ho segnati francesca queste cose belle che ti dice che poi quando ti fa arrabbiare lui se le gioca giustamente vuol dire devi anche un po' perdonarlo è più lei che fa arrabbiare me ho capito e questo poi lo vedete a casa vostra se arriva francesca dico da studio chiudetegli la porta non fate mentare esatto assolutamente sì mi raccomando i tuoi amici dove sono prevalentemente? Cremona a Cremona sì tutti a Cremona ci stanno seguendo ora? qualcuno sicuramente sì li salutiamo sicuro Filippo ci segue Filippo Mondini ho capito benissimo salutiamo Filippo sono amici tosti sono simpatici molto ho conosciuto anche te ho conosciuto anche io un bel gruppo di amici sì 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 belli tosti belli tosti e beh anche loro ti seguono là dove possono sì 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 assolutamente sì anche loro sono appassionati di calcio anche loro giocano in terza seconda prima promozione in quelle categorie un po' più basse quindi anche loro non hanno modo purtroppo di venire tante volte a vedere allo stadio però comunque seguono sempre sono sempre i primi i primi tifosi anche loro e questo capite che anche per un calciatore che è lontano da casa avere vabbè la moglie al proprio fianco è una cosa importante ma avere anche delle persone amiche che da lontano ti fanno sentire la loro presenza soprattutto nei momenti un po' più complicati penso che sia molto importante è fondamentale fondamentale sì sì allora ti chiedo ancora una cosa Andrea il ruolo degli Stati Uniti dell'America nella tua vita faccio questa domanda perché solo lo dice lui il perché no allora io sono stato una volta sola sì diciamo che il ruolo degli Stati Uniti è entrato con Francesca perché Francesca ha questo ottimo rapporto con una famiglia californiana di Denville vicino a San Francisco che salutiamo dai quali va lei spesso perché ha fatto uno scambio a livello di studio ha trascorso un mese la dieci anni fa più o meno adesso mi tirerà dei nomi Francesca però va bene così e quindi Francesca è rimasta molto legata a questa famiglia sono venuti tante volte a Cremona a trovarci poi perché anche la figlia aveva studiato in Svizzera e quindi erano anche vicini e quindi hanno approfittato e siamo andati a trovarli due anni fa io mi sono proposto a Francesca in California a casa loro loro sapevano tutto quindi erano coinvolti nella sorpresa sono venuti al matrimonio hanno la sciarpa della Virtu Centella appesa in cucina, in camera, in salotto molto bene hanno tutto appeso e saranno prossimi ospiti a Chiavari perché il loro obiettivo è quello di venire a Chiavari nella primavera prossima a vedere una partita perché hanno già visitato la zona le Cinque Terre, Portofino ma non sono mai stati a Chiavari e manca il Tempio del Comunale la Cattedrale di Chiavari e poi c'è il Tempio che è il Comunale benissimo allora li aspettiamo prima della prossima assolutamente sì benissimo allora tu hai studiato Andre? sì cosa hai studiato? Scienze Politiche prima hai fatto qualche cosa sì beh hai fatto il liceo tecnologico dice Scienze Politiche sei laureato? non ancora non ancora ti stai laureando? mi sto laureando sono laureando sei pronto? non tanto chi è Adam Smith? Adam Smith non lasciamo passare niente mi cogli impreparato ti cogli ben preparato mi ricorda qualcosa ma meno uno la giuria stia bene attenta facciamo un applauso di coraggiamento al nostro Corbari perché si sente preoccupato di questo tantissimo allora andiamo a bomba invece prova a chiedere anche a te perché Di Mario su questo è stato faticoso il Corso Dante dov'è? Corso Dante ma Chiabari dov'è Corso Dante? allora che domande toste è che domande toste Corso Dante cioè Corso Colombo fin qui vabbè Corso Colombo lo sappiamo ma Corso Dante è uno dei corsi più famosi di Chiabari sei secondo che non lo sa ma che cosa sarà canuggio? no meno due allora l'esame di Corbari sta andando male quindi però abbiamo possibilità di rifarti tranquillamente Corbari adesso ti faccio una domanda un po' più dettagliata adesso ti do un foglio con una penna ok sicuramente Francesca ci sta seguendo tu ti sei sposato giusto? assolutamente sì ti ricordi la formula matrimoniale che hai detto? il giorno del matrimonio guarda com'è in crisi non puoi riscriverla tanto noi ci diamo uno stacchetto musicale e una pausa pubblicitaria dove riprendiamo lui mentre lavora prego prego scrivi va bene te la impresto io per stavolta va bene vediamo cosa ha scritto il nostro Andrea Corbari grazie io Andrea Corbari attenzione col cognome prendo te Francesca Nassano come mia sposa prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore poi nella malattia prima nella prima della malattia c'è speriamo la salute nella salute e di amarti e di onorarti per il resto della mia vita per tutti i giorni per tutti i giorni della mia vita Francesca io te lo dico forse qui bisogna fare un richiamino perché mi sono passati pochi mesi e già come diciamo a Chiavari non che semmo però tre mesi e due giorni tre mesi e due giorni ecco e lo scolaretto lo scolaretto Corbari prende un punto in più per questo conto che fa nei confronti di sua moglie sai che noi ascoltiamo tutte le domeniche un inno a Chiavari che si chiama Alentella ok allora Alentella a un certo punto dice Cara Dolce ci sono tre ipotesi città bella città vera o città di mare città di mare città bella del Tiguglio 6 l'onore il vanto o la stella la stella bravissimo questa l'ha azzeccata avete visto siamo contenti di questo molto bene oppure di fare uno strafalcione però hai preso un punto bene bene allora stiamo concludendo ti leggo un pezzo da una tua intervista in chiusura l'ormai classifica classica scommessa con il social che ti ha intervistato cosa farà Corbaris se raggiungerà l'obiettivo scritto nel foglietto barba non ne ho i capelli non li coloro però li raso direi che come scommessa impegnativa benissimo allora io a fine anno ti taglio i capelli siamo d'accordo ci vediamo qui vengo con il rasoio tu tieniti a mente una scommessa decidi la adesso ok e poi ci rivedremo a fine anno la scrivo la metto sarà un onore per me poterti rasare i capelli completamente ci stai Corbari ci sto per la felicità di Francesca assolutamente se vuole anche venire lei raso anche a lei così almeno siete insieme e basta direi che siamo quasi alla fine cara dolce cittabella lino dell'entella ti ricordi più o meno come fa? alle 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 all'entella l'hai sentito? sì 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 però non fa canticchiarcelo così concludiamo attenzione il tenore Andrea Corbari conclude la sua intervista cantandoci all'entella che è un ottimo viatico per prepararci all'intervista della settimana prossima mi servirebbe un po' una base sotto non c'è bisogno no non c'è alle alle all'entella un po' calante come a volte i nostri tifosi che però sono sempre di più e ci seguono sempre di più ringraziamo la nostra giuria che ha dato il voto a Corbari attenzione stop al televoto partiamo sei meno quindi Corbari ti sei salvato in calcio d'angolo speriamo che i prossimi corner per noi siano favorevoli non come le ultime volte che siamo sempre arrivati lì ma manca il passettino però dopo questa intervista sono convinto che Corbari sarà ancora più in forma per affrontare questo noi ci diamo appuntamento con un nuovo ospite ringraziando lo scolaretto che corre Andrea Corbari salutaci Cremona salutaci Francesca salutaci tutti e arrivederci alla prossima forza entella amici e amiche di ti confesso che questa volta confesso io le mie colpe nel senso che mi sono dimenticato di chiedere a Corbari la canzone preferita da aggiungere alla playlist e la canzone da aggiungere alla playlist è Carry You Home di Alex Warren spero di aver pronunciato giusto non lo so Musica 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 Musica